Ma che rottura, oh! Ogni santa volta! Per trovare qualcosa riguardo ai droni devo sempre perdere ore a consultare siti diversi. È possibile che non ci sia un sito dove posso trovare tutto? Mmmh, non esiste. Devo assolutamente chiamare gli altri youtuber. Scusate mi sta squillando il telefono, devo rispondere, è importante che cavolo è. Pronto! Pronto Ari! Ho un'idea malsana per la testa. Siete pronti? Dai dimmi tutto, spara! Che idea ti è venuta? Dobbiamo aprire un sito internet tutti insieme, eh? Grande idea! Ho sempre desiderato aprire un sito di adozioni per cuccioli di drago che cercano casa. Fantastico, vai! Ari, ma queste idee strambe ti vengono sempre quando sogni o stai passando un periodo un po' così? No, no ragazzi, no, no. Un bel sito su nuovi vocaboli in lingua francese lo trovo molto molto più appropriato, ma è ovvio. Ma sai perché Ari? Perché io ho abituato i miei grandi iscritti a cose di grande livello, di avanti, capito? Nutella impestata, questo ci vuole! Ma no, ma siete vatti? Cioè, allora, quello che dobbiamo fare sarà semplicemente un sito dove poter raccogliere tutto quello di cui i nostri iscritti hanno bisogno. Eh sì, grande idea, grandissima idea. Magari potremmo organizzare anche dei webinar, non so, ad esempio sui regolamenti dei droni. Fotografia? Ma anche post-produzioni video, per esempio. Sarebbe perfetto. E poi potrei anche offrire uno sconto del 7% sui prodotti DJI. Infatti io sono un rivenditore, non so se te lo ricordi. Bravissimo, Nicola. Mi sembra veramente un'ottima idea. Esatto, potremmo inserire anche materiale per noi dronisti, come ad esempio, che ne so, stampe 3D studiate apposta per ogni tipologia di drone, skin, skin personalizzate per tutte le tipologie di droni. Magari, perché no, le tessere per il patentino crawl, l'attestato open a 1, a 2, a 3, quelle vanno tantissimo, ragazzi. Ma, Aristide, mi sembra un'ottima idea, ma scusa, perché non inseriamo anche i preset per i video e i loot a questo punto, già che ci siamo, facciamo una cosa proprio strafiga? Sì, sì, e ancora sì. Secondo me potremmo anche creare un'area di annunci come se fosse un mercatino dell'usato. Ma perché no? Anche un, che ne so, un cerco, offro, lavoro con il drone o vendo o compro un drone. Perfetto. E di, Ari, passerà la macchina, è ovvio. Ah, e poi potremmo inserire anche una sezione matte, dove ogni tante potrà inserire le proprie fotografie e queste verranno poi visualizzate e localizzate su una mappa. Esatto, così, in questo modo potrebbero tutti consultare la mappa, vedere le foto e poi andare proprio in quel preciso posto. Ragazzi, stiamo sviluppando delle idee veramente strafiche, però scusate, ma chi si occupa della realizzazione grafica e del sito internet? Ok, ok, forse conosco la persona giusta. Provo ad aggiungerlo alla conversazione. Sì, pronto, buongiorno. Mi dico Mauro. Buongiorno, Andrea. Allora, perché sei qui? Mi dica. In pratica vogliamo spiegarti la nostra idea. Vogliamo realizzare un sito. Ok. Dove praticamente possiamo mettere tutto ciò che può essere di aiuto a tutti gli amanti del mondo dei droni. Raccontami un attimino bene gli step che vediamo se riusciamo a costruire qualcosa. Ok? Quindi, in pratica, cosa ci servirebbe? Ad esempio, una sezione blog dove pubblichiamo magari degli articoli, se è uscito un nuovo drone. Sì, sì. Oppure, ad esempio, se qualcuno vuole avere delle skin, quindi una pagina dove poter acquistare delle skin. Oppure dove possono scaricare delle loot, ok? Per le immagini, per i video. Una parte in cui facciamo webinar, una parte in cui c'è una mappa interattiva, le persone possono praticamente inserire le loro foto più belle, i loro video più belli. Ci sto già lavorando. Ci aggiorniamo, finisco il progetto e ti richiamo, così ti faccio vedere. Ok, sono già una buon'opera. Ciao! Perfetto. Ecco voi, DroneItalia.online. Vai Mauro, non ci credo che hai già fatto tutto, in quanto tre secondi, ma nemmeno. No, adesso guarda, vado subito a vedere. DroneItalia.online Ok, invio. Ma, è già online veramente il sito? Incredibile Mauro, ma come cavolo hai fatto? Quindi vuoi dirmi che DroneItalia.online è online? Ragazzi, è nato il nuovo sito che tutti voi stavate aspettando, con tantissime novità, studiata apposta per voi dronisti. Come vedete, siamo un team di YouTubers che hanno deciso di unirsi. Ci sono persone che fanno parte di questo mondo che non sono YouTubers, come ad esempio Mauro Messena, che ha curato tutta la parte del nostro sito internet. E ti raccomando, ricordati che è online. Ma, allora, ci deve essere un problema. Io stavo facendo qualcosa con il drone prima, e poi mi è arrivata la chiamata di Eriscide, e io credo di averlo perso. No, è incredibile. È ancora lì. Ce l'ho fatta, con un po' di fortuna. Adesso è meglio che lo porto a casa, prima che vada in acqua. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie.